Altra giornata nera ieri per Torre del Greco. Nell'ultimo comunicato del Centro Operativo Comunale è stato confermato il decesso di quattro cittadini, rispettivamente i 74, 62, 79 e 90 anni. Sono pochi tuttavia i nuovi positivi rispetto ai giorni scorsi. 27 case di positività riscontrati a fronte ai 97 nuove guarigioni. Bomb di contagi invece a Castellamare e Stabbia dove sono 92 i cittadini risultati positivi al coronavirus solo nella giornata di ieri. Tra i nuovi contagiati ci sono 11 piccoli tra gli 1 e i 9 anni, 11 ragazzi tra i 10 e i 17 anni e due persone di 83 e 85 anni. Sono stati lavorati complessivamente 359 tamponi, 37 invece guariti tra cui in 15enne un 92enne ed un 85enne. Paura per la variante inglese a San Giorgio a Cremano dove un caso rientrante nella nuova tipologia di virus è stato riscontrato in un alunno della scuola Don Milani. Chiuso il plesso scolastico e tutta la classe in quarantena. Intanto i sindaci di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Cercola, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Volla hanno scritto una lettera indirizzata al Ministro dell'Interno, al Prefetto e al Questore di Napoli. Consci dell'impossibilità da parte degli uomini e delle forze dell'ordine, seppur con turni massacranti, di monitorare adeguatamente l'intero circondario, hanno chiesto maggiori unità per il controllo del nostro territorio, per far rispettare le nuove disposizioni per limitare i contagi, soprattutto ora che la campagna è di nuovo zona arancione.